Devo dire che io sono sempre stato un po' nel mondo delle biciclette perché correvo da ragazzo e poi andavo molto piano perché tutte le volte che partivo per fare l'allenamento mi fermavo a sistemare la bicicletta e quindi perdevo delle ore a sistemare la bicicletta e non mi allenavo, quindi arrivavo sempre ultimi.